Musica Va bene ragazzi nuovo match Torniamo Nella mappa Manta Maria Oggi si stanno Scambiando benissimo le mappe Una volta qui e una volta di là Ok ho cambiato squadra Abbiamo Imperatore Super Anto e Super Mine C'è Imperatore che sta laggando Leggermente Vai colora 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 Stiamo viaggiando In coppia E là attenzione Vediamo se riesco a fregarlo Passando di qua Intanto dovrà tornare Ho preso Fighter Ho preso Ho preso Angelo Ho buttato la pioggia Immediatamente Scusatemi ragazzi lo so Sono due kill Un pochettino rubate Infatti Fighter si è subito vendicato Mamma mia Mamma mia Weyla 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 Attaccano Un po' troppo però così eh Weyla Preso e abbattuto Bravo Super Mine Che mi hai subito vendicato Però adesso i blu Anzi i viola Stanno Non riesco a capire Se è un blu o un viola Sembrerebbe un blu tendente al viola Un viola tendente al blu Vabbè L'altra squadra Diciamo così Sta un attimo prendendo Il largo Sì ma fino a dove può colorare Angelo Cioè ma veramente Ok ho protetto Super Mine No 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 Può colorare da Una distanza enorme Torniamo un attimo indietro Appena in tempo Appena in tempo No mi sono buttato Ah dovevo prenderlo alle spalle Davide Mi sono proprio buttato in mezzo Lì ho sbagliato io Ho veramente sbagliato io Se no era già praticamente Una kill fatta Si sono piazzati là in cima Stanno colorando Tutta quella zona là Eh perché hanno delle armi Con una portata Maggiore rispetto alla mia Guarda 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 Fighter Mamma mia Gli è scocciata parecchio Quella kill che gli ho rubato Mamma mia Ok ho preso Angelo E poi c'era Davide A rimorchio Due dei miei Sono riusciti a passare Però i blu Stanno venendo Da questa parte di qua Ok Umberto l'ho preso E Finisce così la partita Non lo so Bel match Bel match Ah 55 a 30 Niente Vincono loro Vabbè ci abbiamo provato Non c'è più il tornado Come Arma speciale però Imperatore da noi è crashato Quindi eravamo 4 contro 3 Ok ragazzi si riparte Sono andato a cambiare Nuovamente arma Torniamo nella mappa Manta Maria Ho preso Il calibro 2000 E via Si parte Vedo che altri di voi Sono riusciti a entrare Questa è un'ottima cosa Dai però Sparate 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 Su Perché se no Non andiamo da nessuna parte Mamma mia Omar da Che distanza Sta sparando Uoooooo Arrivo Ho preso un Berto Ho preso un Berto Facevo il criceto Attenzione Che c'è Un incredibile Ayaki Che mi ha preso Ah C'era Imperatore Che poi ha splattato anche un altro mio compagno di squadra Con il rullo Lo stanno usando in pochissimi il rullo Anche i cecchini Non ne ho più visto uno Lo usano veramente in pochi Ho Vince Che mi sta Pedinando Non mi sta seguendo Mi sta pedinando Ce l'ho appiccicato Però abbiamo bisogno che colori Perché se no Da soli Non ce la faremo mai Che strage Piazziamoci un grande Così a caso Eccolo E' tornato E' tornato E' tornato Ficci del blu Ah E' lì E' lì Via 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 Chi Caspita Ah C'era Imperatore Di nuovo qua sotto Con il rullo Siamo di nuovo in difficoltà Ragazzi E' sta cosa Non mi piace Ok bravi Era Splat Phillip Forse Sì ma non è possibile Sta facendo una strage Con sto caspita Di rullo E nessuno Riesce a fermarlo Cioè sta facendo veramente Una strage Eh no Eh no Lì Lì dovevo scappare Dovevo scappare Spara Spara Fighter Spara Si stiamo giocando Comunque Quattro contro Tre Perché Vince Non sta facendo Nulla Avrei bisogno Che colori Un pochettino Di più Però Perché se no Veramente Sembra di giocare Con un uomo In meno Ok Partita Terminata Niente Purtroppo No 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 Non ce la facciamo Ha colorato tutto Dalla nostra parte 62 29 Niente da fare Ragazzi Niente da fare Abbiamo giocato Malissimo Va bene ragazzi Nuovo match Questa volta Dobbiamo vincere Questa volta Dobbiamo vincere Oh Perfetto Dei compagni Di squadra Nuovi Fighter Splat Philip Vai Philip Vai Rotoliamo Come se non ci fosse Un domani Rotoliamo Come non abbiamo Mai rotolato Prima Vai Fighter Questa volta Ti ho in squadra Assieme Cerca di non deludermi Massacrali 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 Attenzione che ho Già finito Uuu Elvi Però come mai Era Luminoso Boh Era luminoso Vabbè Tanto noi Ripartiamo Torniamo di qua Mi sta sparando Col cappello Da samurai Adesso lo andiamo A prendere No Sono cascato Giù Attenzione Alla bomba Attenzione No Non ci credo Di nuovo Mi ha preso Mi ha preso Di nuovo Con la pc Bomba E avevo E avevo Anche Il E avevo Anche Il jet Splat A disposizione Manteniamo Questa zona Qua Vai Splat Phillip Abbiamo Una colorata Sotto Ok Vedo che Fighter Sta facendo I grandi Danni Sì Vabbè Ma non c'è È pazzesco Che forza Bruta Mamma mia Andiamo Da lui Va Anche se Probabilmente È un mezzo Suicidio Ok Bel lavoro Di squadra Devo ricordarmi Che ho la capriola Devo ricordarmi Che ho la capriola A disposizione Vai Vai Ragazzi Vai Vai A tutta velocità Schiacciamoli Visto che Anche loro Ci hanno Schiacciato Parecchio Prima Secondo me È crashato Qualcuno Della squadra Avversaria No Alle spalle Alle spalle Di nuovo Riesce sempre A prevedere Quando ho Il Il potere speciale Attivo È pazzesco Che è il fenomeno Qua Vabbè Tanto ricoloriamo Dove è passato Lui Ok Partita Terminata Siamo andati Addirittura A colorare Davanti Alla squadra Azzurra Che però Mi sa Che vince Questo match Non ci credo 46 A 45 Per lo 0,5% Vincono Pazzesco Veramente Pazzesco Ok Ragazzi Nuovo match Torniamo Nella Manta Maria Niente Non riusciamo Più a vincere Un match È pazzesco Ok Due aerografi Dall'altra parte Eh l'aerografo È un po' OP Su Splatoon 2 Finalmente Imperatore Questa volta Dalla nostra parte Con Rullo Prima ha fatto Una strage Usalo bene Mi raccomando Allora Mi nascondo Qua dietro Oh Preso Fighter E poi Mi hanno Naturalmente Splattato Con Il verni Schianto Mi piace Supermine Che stava Festeggiando E poi È stato Abbattuto Malamente Vai Gian Colora Colora Come se Non ci fosse Un domani Colora Come se Non ci fosse Un domani E tutto Viola Tutto Viola Ah no Sono scivolato Fuori No sti Errori No sti Errori No A questo punto Ripartiamo Da qua Se no Finivo In bocca al leone Eh mi ha visto Però mi ha preso Supermine La cosa divertente È quella Mi piace che tentano Di festeggiare Oh finalmente Girano su Se stessi Ah guarda Ce n'era uno Lì Ah c'era Fighter Che Si stava Nascondendo Che caspita Sono ste Pirouette Cioè ma La mia squadra Sta mollando Come non so Che cose Cioè guardate Che roba È tutta viola La mappa Stiamo giocando In due Praticamente Ok Ho splattato Vince No dai Volevo fregarlo E splattarlo Mentre stava arrivando Ok Ha tentato Di prendermi Fighter Bello eh Bello Splattare Gli avversari Così Allora Ripartiamo Sì sì ma Sta partita Qua È già finita È già finita Ancora prima Di iniziare Scappato via Buttando una PC bomba Sono morto È finita Così Ragazzi Niente Ci hanno massacrati Questi aerografi Hanno vinto Di nuovo Loro 56 A 30 Sempre meglio Sempre meglio E sono quello Che ha colorato Di più eh Va bene ragazzi Eccoci qua Ultimo match Di oggi Vediamo se riusciamo A portare a casa Una vittoria Anche nel cantiere Pinne nere Perfetto Squadre caricate Ma chi è che abbiamo In squadra Blea C'è Blea Che ha il Cecchino Vediamo se riesce A coprirci bene Vai Lola Mamma mia Ho rischiato Di finire giù Questo Lo riempiamo Di colore Poi Saliamo qua sopra Ci mettiamo Di qua E però Non mi conviene Buttare lì Le bombe Perché non ci sono Più le casse Allora Ho buttato Un po' Di bombe curling Prima c'erano Le casse Comunque qua Ok Ho colorato Tutto il ponte Ah Mi ha preso Angelo Che utilizza Sempre lo Splasher Elite Dai ripartiamo Ci sono ancora Delle zone Neutre Qua Coloriamo Tutto Ok Sto coprendo Qua dietro Perché non si sa Mai Dai 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 Su 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 In teoria per il momento Dovremmo Star vincendo noi In teoria Si sa mai Attenzione che mi sparano Mi sparano Mi sparano Eh mi stavano Sparando Ha fatto una doppia strage Andiamo qua Mi sa che mi splattano Si Mi stavano Non dico aspettando Ma poco ci mancava Niente Non riesco a mirare Non riesco a mirare Bravo Imperatore Che almeno uno L'hai bloccato In quest'ultimo match Faccio fatica a mirare Troppa gente Che si sposta A destra A sinistra E così Via Ce n'è uno qua Guarda che roba Però Cioè sto sparando Da tutta un'altra parte Bravo Imperatore Che senza problemi Con il rullo Li schiaccia Attenzione alle spalle Ho preso Thomas Che ha tentato Di fare il furbo Finalmente ne ho preso uno Eh ma è così Ci sono partite Dove faccio magari 20 kill E poi ci sono partite Dove Non ne faccio Neanche una Ah Volevo prenderne un altro Stavo arrivando A tutta velocità Oh Finalmente Riusciamo a vincere Anche in questa mappa qua 58-32 Bella vittoria Bravi ragazzi Gran bel match Chiudo con Una kill Incredibile Una kill Va bene ragazzi Eccoci tornati Nella piazza centrale Di Coloropoli Per i saluti finali Gran belle partite Mi mancava Splatoon 2 Penso che ve lo porterò Un po' di più Sul canale Dato che comunque È un titolo che Mi piace sempre Portarvi Ragazzi Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su Splatoon 2 Alla prossima Ragazzi Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale